Eccoci qua alla terza edizione del Champions Ball, quest'anno siamo qui in Croazia, a Omago, una location fantastica con dei numeri eccezionali, 26 campi da gioco, 190 giocatori, 31 nazioni rappresentate, una settimana di tennis giovanile fantastica con fino a questo momento un'organizzazione perfetta, tutti i giocatori hanno avuto la possibilità di giocare due o tre match con dei round robin all'inizio e adesso siamo negli ottavi e nei quarti di finale e molti giocatori poi anche chi ha perso gioca il consolation quindi veramente una settimana intensissima per tutti i ragazzi all'insegna dello sport, del divertimento e della compagnia con tantissimi giocatori, molto molto bene.